Oggi voglio affrontare un tema molto interessante, ovvero quello che le persone ascoltano, sentono, capiscono ciò che vogliono sentirsi dire. E per farlo parlo di un tema che mi tocca molto, ovvero quello del marketing, in particolare della formazione. E il titolo che ho utilizzato è abbastanza provocatorio e mi fa anche sorridere perché ho scritto che non posso competere con altri formatori. Cosa significa? Allora, se io ti propongo un percorso di crescita per imparare a fare marketing, che richiede un determinato impegno, può portarti a determinati risultati, ma in ogni caso richiede sforzo, richiede sacrificio, devi studiare, devi apprendere, eccetera. E un'altra persona ti promette che puoi ottenere praticamente tutto in maniera molto veloce, senza alcun tipo di competenza, senza nemmeno metterci la faccia, senza avere la più pallida idea di quello che è il settore in cui cerchi di vendere un qualcosa. Come può competere una persona che effettivamente propone qualcosa di realistico nei confronti di chi promette qualcosa di irrealistico? La verità è che non c'è una possibilità. Immagina di voler imparare a sciare. Ci sono due scuole di sci. Una ti dice, da me devi venire 20 volte, fare 20 lezioni, e in 20 lezioni imparerai a stare in piedi sugli sci, eccetera. E c'è un'altra che ti dice, in 30 minuti con i nostri allenatori sarai in grado di sciare. Ora, è ovvio che la seconda proposta sia più accattivante, perché per ottenere lo stesso risultato è richiesto meno tempo, meno investimento di soldi economici, eccetera, e quindi sarà più allettante. Però bisogna tenere in considerazione quando una promessa effettivamente può essere vera e quando invece è completamente inventata, praticamente una truffa. Il punto su cui voglio portare la tua attenzione oggi è proprio questo, che le persone vogliono credere e quindi ascoltano a delle promesse che, anche se magari agli occhi di una persona esterna che non è così coinvolta emotivamente, risultano ovvie che siano assolutamente infondate e inventate, per la persona che ci vuole credere non è così, come succedeva anni fa in quelle televendite in cui il sensitivo o la sensitiva di turno ti vendeva i numeri per vincere alla lotteria. Ecco, la logica è la stessa. Se da un certo punto di vista qualcuno diceva, è ovvio che sia assolutamente impossibile, altri invece ci volevano credere, quindi ascoltavano quello che questa persona proponeva e passavano anche all'acquisto proprio per comprare queste cose. E questo è un tema che devi assolutamente tenere in considerazione quando fai marketing, quindi è vero spingere i benefici di un prodotto e far capire anche alla persona quali sono i benefici che ne otterrà, ma dall'altra parte devi anche capire quali sono i sogni e i desideri del cliente. Una volta che l'hai individuati, devi decidere in che direzione ti vuoi muovere, ovvero puoi fare delle promesse che sono assolutamente irrealizzabili, sapendo di fatto che starei truffando delle persone, ma nel breve periodo questo ti permetterà di fare tante vendite, oppure vuoi costruire un business nel lungo periodo che ti permetta di crescere nel tempo. Oggi voglio invitarti a riflettere proprio su questo in modo che tu possa trarre le tue conclusioni. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, con il mio sistema non solo eviterai di perdere tempo e denaro in programmi che non funzionano, ma potrai anche iniziare a ottenere risultati immediati. Sì, hai capito bene, immediati. Punto numero due. La bellezza di questo metodo è che non devi metterci la faccia. Puoi lavorare comodamente da casa senza dover affrontare il traffico o colleghi fastidiosi. Tutto quello che ti serve è un computer e una connessione a internet. Viene da ridere mentre li leggo. Tre. Non devi preoccuparti di dover imparare codici complessi o segreti inaccessibili. Il mio metodo ti guiderà passo dopo passo attraverso il processo, rendendolo estremamente semplice da seguire. Sarai sorpreso di quanto sia facile. E poi non possiamo mettere il disclaimer in questo caso. Ricorda che i risultati possono variare in base all'impegno e alla dedizione personale. Questo annuncio non garantisce guadagni specifici e non sostituisce l'importanza di un lavoro diligente e onesto. Ecco, vi ho letto alcuni testi che si possono trovare in rete e mi fanno sorridere perché sono, nella maggior parte dei casi, ovviamente delle vere e proprie truffe. Però le persone ci vogliono credere e ci credono. E non provate nemmeno lontanamente a cercare di fargli aprire gli occhi perché sarete voi che non capite. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!